Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove verso Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con l'A1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 code in uscita a Calenzano Sesto Fiorentino, provenendo da Roma. In FIPILI verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra San Mignato e Santa Croce sull'Arno, con code in uscita a Santa Croce e rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est. Sul raccordo Siena-Firenze, code tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta in direzione Firenze. Per i treni, per un guasto agli impianti tra Firenze-Campo di Marte e Firenze-Rovezzano, i treni potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio! Ed è tutto, buon viaggio!